A Cosenza un vero e proprio rudere sovrasta via lungocrati nella parte antica della città. Quello che una volta era un imponente palazzo fino alla fine degli anni 90, prima degli ultimi e definitivi crolli interni, costringendo le ultime famiglie che vi abitavano ad abbandonarlo, oggi rappresenta un vero e proprio pericolo per i palazzi confinanti e per i residenti, perché proprio nei giorni scorsi è stato nuovamente necessario l'intervento dei vigili del fuoco in seguito alla caduta di alcune lamiere a causa delle folate di vento. Il lerelitto, come dicevamo, è incastrato in mezzo ad altri palazzi, al suo interno ormai rimane poco e niente e quel poco che c'è rischia di crollare definitivamente da un momento all'altro. In questi ultimi anni, numerose volte è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che arrivano ogni volta che qualche frammento crolla, lo raccolgono e delimitano con dei nastri la zona. Nastri che dopo qualche ora spariscono perché c'è una viuzza che collega Via Lungo Crati alla vicina Piazzetta Toscano, proprio nel cuore del quartiere, un vicolo attraversato da studenti del vicino liceo classico e dai residenti. Ma il rischio di restare coinvolti in seguito a qualche crollo non è soltanto di chi attraversa quotidianamente il vicolo, ma di chi abita nei palazzi contigui ed in modo particolare da parte di una famiglia che risiede in una palazzina su Via Lungo Crati. Infatti, come raccontatoci dagli inquilini, quello che stanno vivendo è un vero e proprio incubo, specie quando durante il silenzio della notte i brandelli delle rudere si scuotono mossi dal vento, un rumore che non promette nulla di buono. A tal proposito, visto e considerato che nei giorni scorsi, in seguito ai crolli di alcuni palazzi avvenuti non molto lontano dalla rudere, l'amministrazione comunale ha annunciato che velocizzerà con le ordinanze di abbattimento degli stabili pericolanti nella parte storica della città. Magari potrebbe iniziare, prima che accada l'irreparabile, proprio da questo.